La palazzina IACP in via Regigli, incontrata a Colle Macchiuzzo a Termoli, è pronta per essere assegnata a 12 famiglie. È una vicenda che dura da 7 anni. La costruzione sarà terminata nel 2014, ma l'allaccio fognario non era mai stato realizzato per problemi legati al sovraccarico dell'impianto di depurazione. Per questo si è dovuto procedere a un intervento di agibilità. Il commissario liquidatore Nicola Travaglini ha comunicato al Comune che gli alloggi sono pronti, come riporta la nota tecnica dell'ingegnere Salvatore Donno. Gli alloggi saranno messi a disposizione secondo una gradatoria che il Comune di Termoli formalizzerà la prossima settimana.